Agenti della sottostazione della polizia autostradale di Fano hanno arrestato questa mattina, poco dopo le 3.30, un uomo originario di Bari di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, dopo un roccambolesco inseguimento lungo la corsia sud della 14, poco prima del casello di Ancona Sud. L'uomo aveva precedentemente rubato un furgone cassonato Iveco Daily di una ditta edile nella Ravennate con tutta l'attrezzatura appartenente all'azienda sopra il cassone. Poco prima delle 3 il furgone è stato intercettato dalla pattuglia della stradale, destando subito i sospetti degli agenti che, grazie all'esperienza e all'intuito professionale, hanno capito che l'orario, la sola persona al volante e il mezzo carico non erano elementi che quadravano ed hanno così seguito il mezzo e deciso comunque di controllarlo, anche se non risultava nell'elenco dei mezzi rubati, dato che il suo proprietario, Ignaro, non si era ancora reso conto del suo furto. Ma gli agenti ci avevano visto giusto perché il 26enne, accortosi che la pattuglia gli stava alle calcagna, non solo non ha risposto alle richieste degli agenti di fermarsi, ma ha tentato una fuga accelerando, tentando di allontanarsi dalla pattuglia, tentativo però andato a vuoto perché gli agenti gli stavano sempre più addosso al punto da indurlo ad una manovra disperata, fermando improvvisamente e bruscamente il mezzo sulla terza corsia e, lasciatolo lì, scavalcato a piedi l'autostrada, cercando di far perdere le sue tracce, mettendo così in serio pericolo chi sopraggiungeva in quel momento da ambei due i lati dell'autostrada. I poliziotti però, con sangue freddo, oltre che a mettere in sicurezza il luogo, lo hanno rintracciato ed arrestato nei pressi del casello di Ancona Sud e portato a disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere di Montacuto ad Ancona.